Al dicesimo è Faglietti a imbeccare As che spreca chiudendo troppo l'angolo del suo destro. Si affaccina avanti Lascoli con Laverone che di punta prova a sorprendere Brignoli, palla al lato. Al ventiseiesimo succede l'incredibile, sul retropassaggio Peruchini si gira per eludere il pressing di Moreo, ma si trascina la palla in porta, esulta il Barbera mentre i bianconeri provano a consolare il portiere che un minuto dopo si fa trovare pronto su una botta da fuori di Traikovsky.